Il tono della nostra preghiera non è indifferente. A volte ci sono alcuni che pregano con un tono di voce lamentoso, nagnoso, come se stessero pietendo davanti a un ricco dei poveracci che chiedono l'enemogina. Questo ritengo che non vada bene. Altrettanto non va bene il superbo che si presenta, presentandolo davanti a Dio le proprie benemerenze, come fa il fariseo. Ricordate la parabola del fariseo del pubblicano. Ma quale tono, quale atteggiamento, quali gesti fare quando preghiamo? Non è facile, ma i padri teofori ce lo insegnano. Se noi prendiamo il libro Filocalia Occidentalis, pubblicato da Monasterium, il volume primo, alle pagine 67 e seguenti troviamo iscritti di San Cipriano di Cartagine, martire, che ci spiega come coloro che pregano devono domandare con calma, pacatezza e pudore consapevoli di trovarsi al cospetto di Dio. Dobbiamo piacere agli occhi di Dio, sia nell'atteggiamento del corpo che per il tono della voce. Tanto è impudente strepitare con voce alta, quanto al contrario è conveniente pregare con modestia e riservatezza. Per questo il Signore ci ha insegnato a pregare in segreto, in luoghi nascosti e solitari nell'intimo delle nostre stanze. Purtroppo spesso questo insegnamento di Gesù viene dimenticato da molti e la preghiera va fatta nel silenzio, va fatta nel profondo del nostro cuore, nel nascondimento. Non c'è bisogno, certamente c'è anche il momento pubblico, anche il momento corale, anche il momento con tutta l'assemblea, ma la preghiera deve essere qualcosa che sgorba in continuazione dal nostro cuore, è un dialogo continuo con Dio, a cui non c'è bisogno di dire chissà che cosa. A volte basta semplicemente, Dio ti amo, il rito santo colmami del tuo amore, colmami della tua grazia, del tuo discernimento, perché non capisco cosa devo fare in questa situazione. Sono pieno di confusione, quante anime oggi in particolare vivono nella confusione e non sanno che scelte fare, perché non c'è chi le indirizzi. Ebbene lo Spirito Santo è il Maestro interiore, colui che tutto sa, che tutto può e che tutto vuole per il nostro bene. E se ci affidiamo, ci consacriamo a Lui, Lui scenderà su di noi e senza toglierci la nostra debolezza, la nostra incapacità spesso di vedere, di comprendere, ci guiderà passo dopo passo anche nelle scelte più difficili. Ecco, questo è molto importante, ma questo avviene nel segreto, in un dialogo con il Signore. Quante volte la preghiera del cuore c'è di aiuto in questo, Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. O anche la bella preghiera che l'angelo insegna ai tre pastorelli di Fatima, Dio mio, io credo, adoro, spero e ti amo, io ti domando perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Queste preghiere le possiamo fare in qualunque momento della giornata, quando camminiamo, quando siamo sull'autobus, quando siamo in bagno, quando stiamo facendo la doccia, quando siamo soli, quando siamo insieme ad altre persone e la nostra mente può rifugiarsi nella camera dove è presente Dio, quando siamo lì a tu per tu con Lui, anche se il nostro corpo è in mezzo agli altri. Una segnale preghiera è più conforme alla fede, dal momento che sappiamo che Dio è presente ovunque e ascolta tutti, vede, penetra con la pienezza della Sua Maestà, anche i luoghi più lontani e nascosti. Come è scritto nel libro dei Proverbi, io sono un Dio vicino e non un Dio lontano. Se l'uomo cercherà di nascondersi, forse non lo vedrò. Non riempio io il cielo e la terra. Ecco, e ancora, Dio scruta in ogni luogo i buoni e i malvagi. Ecco, la prima citazione, scusate, era dal libro di Geremia, la seconda dal libro dei Proverbi. Ecco, quando ci raduniamo e celebriamo il Divino Sacrificio, la Santa Messa, con i sacerdoti di Dio, dobbiamo ricordarci di essere corretti e disciplinati nelle parole, nel modo di vestire, anche quanto importante domandare a sedurre le persone che sono intorno a noi, con un linguaggio, con un vestiario che potrebbe distrarre le anime di fratelli che sono lì vicino. Non disperdiamo al vento le nostre preghiere con voci confuse, ma le esprimiamo con tumultuosa ed equacità la preghiera che dovremmo elevare a Dio in tutta umiltà. Lui ascolta il tuo cuore, caro fratello, cara sorella. Non la voce, non c'è bisogno di richiamare con grida l'attenzione di colui che vede i pensieri. Ecco, lui scruta i pensieri del nostro cuore. Secondo il primo libro dei re, questo è il comportamento che cercò di osservare Anna, che qui rappresenta una chiesa. Questa donna infatti pregava a Dio senza gridare in silenzio, con umiltà, nel segreto del suo cuore. Cara sorella, pensa a questo, pensa a questo esempio grandioso. Mentre pregava non si udivano parole, ma manifestava la sua fede. Non parlava con la lingua, ma con il cuore. Poiché sapeva che quando si parla così, Dio ascolta, ottenne quanto aveva chiesto perché aveva pregato con la fede. Lo attesta la Bibbia quando dice parlava nell'intimo del suo cuore e le sue labbra si muovevano, ma non si sentiva la sua voce e il Signore la esaudì. Ugualmente nei salmi, parlate nei vostri cuori e provate pentimento nei vostri giacivi. E lo stesso insegnamento ci è dato dal profeta Geremia. Signore, tu devi essere adorato nella coscienza. Andate a leggere quest'ultimo brano. Libro di Baruch, capitolo 6, 5. Fratelli, chi prega non dimentichi neppure come pregavano il Tempio, il fariseo e il pubblicano. Cristo non usava alzare sfacciatamente gli occhi al cielo, né sollevare le sue mani con insolenza, ma battendoci il petto, confessava i suoi peccati, nel suo intimo implorando il soccorso della Divina Misericordia, quella vera. Egli, a differenza del fariseo, che si compiaceva di se stesso con la sua preghiera, da meritò di essere giustificato, perché non sperava di ottenere la salvezza, confidando nella sua innocenza o nelle sue buone opere. Ma confessando umilmente i suoi peccati, fu esaudito da colui che erogisce la sua grazia agli unni. Ecco, questo è l'atteggiamento che possiamo avere, ed io guardo da questo atteggiamento di contrizione, di pentimento per i nostri peccati, e ci fa grazia. In questo ci aiutano i gesti esteriori, chiudere gli occhi, tenere le mani giunte, stare in ginocchio, addirittura qualcuno prostrato a terra. Sono piccoli gesti, piccole cose, fatte nel segreto però, soprattutto. Non fateli davanti agli uomini, per non essere lodati dagli uomini, come se foste chissà che cosa. No, fateli nel segreto. Facciamole nel segreto, fratelli. E Dio che guarda nel segreto, ci dà risposta con la sua grazia, che è una grazia che dà pace, che dà sollievo anche nei momenti di più grande sofferenza. Continuate a leggere il libro Fido Calia Occidentalis e troverete grande ristoro per la vostra anima e grande aiuto per la vostra pregiera.